Vuoi vedere che Marco mi accusa di copiare i suoi video? Dunque, io considero inaccettabile questa situazione Che Dario Torrisi continua a copiarmi miserabilmente i video Cioè, una cosa... Quindi non solo mi accusa, ma io lo copio spudolatamente a questo punto Dopo che tu mi accusi, io ti copio spudolatamente a questo punto Se tu cerchi i top 5 podcast italiani su YouTube Spunti tu, nessuno ti ostacola Tranquillo, ora ti ostacolo io Ti copio spudolatamente il video, così da spodestarti il trono Mi sembra un'ottima mossa Quindi possiamo dare il via alla guerra, Marco Quindi ora possiamo partire con il video In cui parliamo, in cui facciamo appunto una top sui podcast italiani Per chi fosse fuori dal mondo e non sapesse cosa sono i podcast I podcast sono praticamente... Avrete presente le trasmissioni radio Però già registrate e pubblicate su piattaforme come Spotify, Apple Music, Google Podcast Io le ascolto personalmente su Spotify perché penso sia la piattaforma migliore Comunque ho la musica lì, quindi ascolto i podcast pure lì Oggi voglio consigliarvi alcuni podcast Siccome i podcast sono come dei video su YouTube, dei film, cioè non sono oggettivi Ci sono alcuni podcast che possono piacere a qualcuno, alcuni ad altri E quindi ho deciso di dividere i podcast in categorie E non fare una top 5 schifosa oggettiva come quella di Marco Siamo dalla prima categoria che sarebbe quella dell'intrattenimento Iniziamo con quella che può piacere a più persone Il primo che voglio consigliare si chiama Ingranaggi Questo qua copiato dal video di Marco sempre Secondo me mi dà geniale perché prende appunto un argomento da qualsiasi cosa Che ne so, Fedez Fedez e poi mette... Sapete cos'è che mi fa girare gli ingranaggi? Fedez E poi ne parla nel podcast Una specie di riflessione fatta ironicamente Ci sta, a me piace, mi intrattiene Non durano neanche tanto e questo è un... Secondo me è un puntaforo perché io... I podcast che durano tanto devono essere... Sono proprio in pochi quelli... I po' pochi quelli che mi piacciono Quindi passiamo al prossimo che si chiama Parliamo di cose Parliamo di cose, è un podcast di Iacidale Famoso youtuber, non mi ricordo quanti Centinaia di migliaia di mila iscritti Parla di argomenti a caso Basta da parlare della Formula 1 alla scuola Però il fatto che sia una persona di... Una figura importante su YouTube Italia Che sia anche intelligente Comunque mi piace le riflessioni che fa e tutto il resto Mi fa anche piacere il suo podcast E quindi qualsiasi cosa gli parli Mi piace, mi piace il tutto Un altro podcast, questo qua Il nome, cioè io appena ho letto il nome E ho detto vabbè questo qua lo metto direttamente nella top E vabbè sì, l'ho ascoltato ovviamente E' un podcast di Jack e lo Smilzo E ultimamente hanno iniziato una serie Che si chiama Sprematozoi emotivi Cosa si tratta questo podcast? Praticamente loro prendono delle storie Che gli raccontano in chiamata E appunto è molto divertente Perché gli raccontano a volte delle storie Che sono davvero molto interessanti E loro rispondono ovviamente l'unicamente Cioè loro cercano di risolvere questi problemi sentimentali In modo ironico Comunque io vi consiglio di andarlo a sentire Anche questo podcast perché ci sta, è divertente Passiamo ora a un podcast che più di intrattenimento Lo definisco di riflessione Deli Cogito Cogito non mi ricordo come si dice Di Rick Dufer Che è una persona davvero intelligente Mi piace anche lui come riflette Come parla degli argomenti Comunque parla di un argomento E ci fa una riflessione attorno Questo qua è molto interessante Più che intrattenimento appunto Per chi è disposto a questa cosa qua Del riflettere attorno a un argomento Senza magari divertirsi O spaccarsi alle risate Ora passiamo alla categoria dei podcast tech Quelli che ascolto io sono magari Quelli delle nicchie di persone Ma sono belli Quindi ve li consiglio Il primo è Messa a fuoco Di Simone Cioe Che parla di fotografia Video making Quindi per chi è interessato di questo mondo Davvero non c'è persona migliore Che ve ne possa parlare Simone Cioe è un grandissimo youtuber Che parla appunto di fotografia Video making E il suo podcast Parla anche di cose ancora più tecniche Ma molto interessanti A me piace molto il suo podcast Perché anche io sono un appassionato di questo E poi un altro podcast Che vi consiglio È Dialogo digitale E di Tony Castano Questo qua è proprio per chi è appassionato Del settore tech di Youtube Italia E conosce quella nicchia di youtuber Che va dai 20.000 Ai 100.000 iscritti Ed è davvero molto interessante E appunto queste interviste A questi youtuber Relativamente piccoli Rispetto a quelli grandi Ma non sono piccoli E sono molto interessato Da alcuni dei personaggi Che intervista E se anche voi siete appassionati Di questo piccolo settore Tech di Youtube Italia Vi consiglio di andare a sentire questo podcast Perché è davvero fatto bene Passiamo inoltre ai due podcast Uno che parla di cinema E personalmente non sono un appassionato Ma per chi è appassionato Ho trovato questo podcast Che si chiama Cinefax E fanno tipo recensioni di film Parlano dei trailer Di tutti i film che dovranno uscire Più che altro recensioni Tutte queste cose qua Molto interessanti E poi c'è uno che parla di marketing Che è davvero molto interessante Dori Vignali È un personaggio che ha fatto Che ha cresciuto spropositamente Su Instagram E adesso ha aperto Adesso Da un bel po' ha aperto Un podcast Parla di marketing Social media marketing Come crescere di iscritti I follower su Instagram Tutte queste cose qua Che appunto parla di Social media Marketing Che a chi interessa E chi è nel settore Interessano particolarmente Quindi vi consiglio pure questo Che è il migliore nel campo Per questo video quindi È tutto Vi ringrazio tantissimo Della visione Mi raccomando Lasciate like Condividete Perché dobbiamo superare Quello di Marco Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate un mi piace Noi ci rivediamo Nel prossimo video Noi ci rivediamo 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 Noi ci rivediamo